Gentili telespettatori di Cilento Channel, bentrovati. Oggi sono in compagnia di Roberto Ronca del sindacato autonomo FSI USAE dell'ASL Salerno. Bentrovato Roberto, grazie per aver accettato il nostro invito. Un invito che ha uno scopo, parlare dell'ospedale di Agropoli, della situazione in cui si trova. Innanzitutto io voglio partire dalla fotografia che abbiamo sullo sfondo del nostro studio che riguarda una petizione digitale online sul sito change.org dove un gruppo di persone hanno intitolato riaprire il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli ottenendo, pensate fino adesso, più di 40.000 firme. Una delle petizioni più importanti su questo sito. Roberto, dopo tanti anni ancora si combatte per l'apertura più che altro del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Secondo il tuo punto di vista come sindacalista qual è la situazione attuale? Come analizzi questa realtà? Esiste, non esiste il pronto soccorso? Diamo la possibilità alle persone di avere un punto di riferimento oppure lasciar stare e andare direttamente a Vallo. Ecco, questa è una cosa a cui tengo molto, lo devo dire. Attualmente all'ospedale di Agropoli vi è un punto di primo soccorso, il famoso up south, quindi diciamo un pronto soccorso effettivamente sulla carta non esiste, anche perché dobbiamo ricostruire e mettere un attimo in ordine il discorso che all'ospedale di Vallo della Lucania c'è un trattino Agropoli, Vallo della Lucania Agropoli è come se fosse un unico DEA, come del resto è successo con Roccadaspide, Eboli e Battipaglia, quindi c'è questa riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera e quindi Agropoli è una prosecuzione di Vallo della Lucania. Benvengano innanzitutto queste iniziative, perché sicuramente noi possiamo vedere di buon occhio proprio questa raccolta firme che nasce dal basso per una esigenza di sanità territoriale, del resto Agropoli è un centro importante, grosso, certamente non si paragono a Vallo, noi non possiamo mettere però in discussione quella che era l'organizzazione diciamo dalla ex Salerno 3 ad andare avanti, quindi questo era un preesistente che c'era, su cui poi si è andato ad agire quando con troppa leggerezza forse si è aperto l'ospedale di Agropoli e con troppa leggerezza di lui si è chiuso, quindi sarebbe rimangare troppe cose, troppi trascorsi che qui non stiamo a discutere. È chiaro che il tutto si gioca sulla rete ospedaliera e quindi il pallino passa direttamente in mano alla regione Campania, bisognerebbe andare a ridiscutere il piano ospedaliero, il piano ospedaliero cilentano e quindi nell'eventualità vedere come riorganizzarsi. Però la domanda che ti faccio è questa, abbiamo ottenuto da qualche anno più o meno la possibilità di utilizzare l'ospedale di Agropoli come centro Covid di Vallo della Lucania, giusto? Se non vado errato, più o meno quella dovrebbe essere in sintesi. Alla fine così è stato. Ecco, alla fine così è stato. Ora, essendo comunque un ospedale che sta lavorando, ha lavorato ancora di più durante l'emergenza massima della pandemia, perché non c'è la possibilità di attrezzare il pronto soccorso al meglio? Attrezzare un pronto soccorso al meglio innanzitutto bisognerebbe, ripeto, prima di tutto deve rientrare nella rete dell'emergenza e Agropoli non c'è. Perché è così difficile farlo rientrare nella rete dell'emergenza? Non c'è poi di costi, perché naturalmente far riattrezzare un pronto soccorso, il pronto soccorso alle sue spalle prevede tutta una serie di servizi di emergenza che ci devono essere, la rianimazione, la radiologia e quant'altro, tutti i reparti che per alcuni aspetti si è cercato di fare con delle attrezzature di urgenza, di emergenza, però naturalmente, ripeto, non essendoci l'indicazione precisa del pronto soccorso di riaprirlo, non è che la decisione può partire dal direttore sanitario di Vallo della Lucania, ci vuole una programmazione sanitaria che è regionale. Quindi bisogna aspettare dall'alto l'indicazione. La trasformazione. La trasformazione. Allora si deve andare a ridiscutere il piano sanitario. Secondo te questo può accadere nel momento in cui l'emergenza fortunatamente sta scemando in un certo senso, l'emergenza Covid naturalmente, quindi tutti gli sforzi fatti fino adesso, più di 600 mila euro di costi per rimodernare un poco o meglio attrezzare l'ospedale di Agropoli ai fini del Covid, infatti ultimamente c'è il bilancio pubblicato dall'ASL Salerno e quindi i dati sono abbastanza chiari, anche se leggerli non è tanto semplice. Sembra che siamo all'attivo. Ecco, sì. Sembrerebbe. Una piccola cifra però sembrerebbe addirittura con tutti i fondi che sono arrivati per l'emergenza siamo all'attivo, quindi sono stati anche ben spesi perché attrezzare le strutture ospedaliere è una cosa fondamentale. Del resto più abbiamo modernamenti, più gli operatori possono lavorare con tranquillità. Chiaro che adesso il problema potrebbe essere l'altra carenza, quella dei medici. Ma è vera questa cosa oppure no? È vera questa cosa, ripeto, io distingo sempre, quando si parla di ASL Salerno, noi dobbiamo parlare di una delle aziende più grandi d'Italia, come la provincia di Salerno per estensione è una delle più estese d'Italia, quindi anche l'ASL Salerno ha la stessa cosa. Noi ricordiamoci che per fare da parte a parte, da Sarno a Sala Consilina, forse ci sono 150 km per attraversare. Due ore. Quindi due ore. Quando parliamo di Salerno Sud, quindi da Capaccio a scendere in giù, l'ex Salerno 3 per così dire, è chiaro che noi abbiamo degli altri problemi, entrano degli altri fattori problematici che in questo momento, il primo fra tutti, sono una questione di numeri di assistenza, quindi lo spopolamento dei paesi piccoli e automaticamente questo portano dei numeri, all'abbassamento dei numeri nella frequenza delle strutture ospedaliere, quindi nei pronto soccorso o negli ospedali di genere. Quindi in un certo senso mi stai dicendo è quasi giustificata, diciamo così, la lentezza di un'operatività sull'ospedale di Agro. La logica dei numeri, quando si parla, come al solito se ne è parlato tanto, si è contestato tanto, questo in tutta Italia, è chiaro che se si fa la logica analitica solo dei numeri per un certo numero di popolazione, come dice il Presidente della Regione fa sempre questo discorso di assegnazione di soldi al cittadino campano rispetto al cittadino milanese, già lo stanziamento è ridotto. È chiaro che a maggior ragione, se noi abbiamo una riduzione di popolazione nell'ambito sud, cominciamo ad avere una difficoltà anche nella programmazione. Il solito discorso che siamo in pochi e non contiamo nulla a livello politico, no? Ma non è che non contiamo nulla, perché noi comunque abbiamo il Dea di Vallo della Lucania, Vallo Agropoli, che è il secondo ospedale dell'Asel di Salerno. Noi ci differenziamo dal Dea di Nocera solo per 40 posti letto di differenza, quindi come importanza abbiamo 22 specializzazioni. Anche ad Agropoli è toccato, c'era il reparto di medicina, c'era un reparto di medicina. È chiaro che probabilmente anche l'organizzazione non è stata molto armonica tra Vallo e Agropoli per servirsi anche dell'ospedale, del reparto sostanziato. Questa organizzazione doveva partire dal direttore sanitario, però? Questo siamo, sì, certamente. Il dottor De Vita doveva magari principalmente spingere affinché Agropoli potesse avere di più. Certo, perché del resto anche il discorso del week service che era stato inaugurato, diciamo del reparto del sabato per quanto riguarda la chirurgia, che pure è stato attrezzato, però poi non è mai decollato perché è sopraggiunto il Covid. Certamente erano tutte delle idee per dare delle specifiche, delle caratterizzazioni anche all'ospedale di Agropoli. È chiaro che da questo punto di vista, avendo l'avallo a livello del direttore generale, il direttore sanitario ha tutte le possibilità di poter promuovere queste cose. Come pure, io ricordo una delle ultime ipotesi che ha fatto proprio il governatore, quando è venuto, quella della Camera Iperbarica. Perché non seguire questa strada e caratterizzare quindi Agropoli essendo sul mare? Quindi si può lavorare, diciamo, su una riorganizzazione dell'ospedale di Agropoli verso una specializzazione più... Esattamente. Ma è quello che sarebbe la soluzione anche per Vallo. Perché per esempio sul Vallo della Lucania, che stiamo riscontrando questa carenza di medici, da quando c'è stata la denuncia il mese di agosto, non mi pare che sia cambiato molto, per la verità. Perché il personale infermieristico per l'emergenza Covid è arrivato, il personale Oss pure sta arrivando, è arrivato sempre per questa emergenza. Sui medici abbiamo avuto delle grosse difficoltà. Per la verità io sono stato anche un po' critico, molto critico, perché non abbiamo badato a preoccuparci di sostituire i medici carenti nelle altre discipline, perché eravamo tutti concentrati sull'emergenza Covid. Ora, l'altra volta lanciai l'idea così malsana, che potrebbe comunque essere una soluzione, visto che abbiamo tutti questi medici presi per l'USCA, visto che gli interventi per il Covid sembrerebbe che stiano rallentando, concentrare questi medici e inviarli al pronto soccorso di Vallo. Chiariamo che cos'è l'USCA, però, perché molti telespettatori magari sono stati un po'. L'unità territoriale che è stata strutturata per intervenire sui casi Covid a domicilio. E chi lavora in questa unità? Medici e infermieri, è normale, perché loro vanno casa a casa. Quindi il tuo ragionamento è quello di dire, vista la riduzione di richiesta pandemica, epidemiologica, utilizziamo questi medici per le altre specializzazioni. Certo, in prima battuta c'era la... Ma la proposta l'hai fatta? L'ho fatta proprio sulla vostra... E che risposta? Veramente, c'è qualche voce che dice che in questi giorni si sta seguendo proprio questa strada. Non so se è vera, veramente, perché poi è chiaro, non tutti vogliono ammettere che qualche volta qualche sindacalista ha qualche buona idea, però mi pare che si sta discutendo proprio di questa cosa, perché del resto non abbiamo altre strade. In questo momento non si vede la soluzione in fondo al tunnel di questo arrivo di questi medici. Sono stati fatti due concorsi dall'ASL, stanno facendo le graduatorie e quant'altro. Però quello che ho detto pure io, visto che poi c'è l'altro problema, che al sud di Salerno non vogliono venire, sembra che sia poco appetibile il territorio, ma questo non l'ho detto io, l'hanno detto anche persone più illustri di me, sembrerebbe che ci sia un problema territoriale. È chiaro che fare un concorso per 50 medici, varie discipline, però non etichettarle esclusivamente con la sede di Vallo della Lucania, Agropoli, Roccadaspide, va a finire che arrivati nell'ASL Salerno, questi medici di 50 ne arrivano 5, 6, 7 a Vallo e poi nel giro di un anno o due vanno via, come è successo per esempio non ultimo con i cardiologi, i 4 che erano arrivati a risolvere il problema sono andati via. Perché sono andati via? Perché bisogna vedere anche l'organizzazione interna poi degli ospedali. Li hanno fatti andare via? Potrebbe essere, veramente il medico in genere in questo momento può essere a mille sirene intorno, perché essendo una categoria che sta diventando rara, c'ha tante proposte, tante offerte, adesso io seguo pure io tanti trasferimenti di medici che dall'Alta Italia vogliono venire in Campania, è chiaro che valutiamo a tavolino in base ai vari concorsi, alle varie offerte, è chiaro che il tutto è legato alla carriera personale, ad ambire a una certa carriera, perché poi alla fine di tutto… Fare il medico nell'ospedale di Agropoli sicuramente non ti dà lo stesso prestigio nel fare il medico, che ne so, a Napoli oppure a Roma o a Milano. Certo, perché a volte fare il congregario di un luminario sicuramente ti può dare più lussero che venire a fare il direttore di un reparto con tutto… Non voglio sminuire per dire polla, anche perché il problema, torniamo ai numeri, un medico bravo che dir si voglia, che va in sala operatoria, che opera, deve acquisire una certa manualità. Nel corso del tempo si è detto che doveva aver fatto, doveva aver svolto un certo numero di interventi. Cioè c'era la richiesta proprio di questa specialità? No, il medico in generale, se non fa un certo numero di interventi l'anno, effettivamente non è considerato, non riesce a decollare con tutto che può essere bravi. E' chiaro che lo stesso medico si rende conto di questa difficoltà e cerca, specialmente i giovani, immagino che chi vuole fare carriera all'inizio devono mettersi dietro a luminari per imparare, quindi questo è il discorso. Da noi, io pure ho proposto qualche volta, ho detto vicino a qualche medico di qualche reparto, ho detto scusate, ma accaparriamoci i giovani che si stanno specializzando, facciamoli venire a fare tirocinio, metteteli intorno a voi, trasmettete il vostro sapere, creiamo anche questo flusso positivo di persone che vogliono venire qui perché c'è questa specializzazione, per esempio noi a Vallo della Lucania abbiamo il centro di procreazione medicalmente assistito che è riconosciuto in campagna, uno dei due forse, lo disse sempre il governatore De Luca, un polo di eccellenza su cui si può lavorare e far crescere il Vallo della Lucania e addirittura creare un punto di attrazione. Ti fermo in modo tale da spaziare tra un argomento e l'altro, perché poi così creiamo anche l'alternanza a livello comunicativo. Volevo parlare dell'Alpi, ecco, spiega bene che cosa significa ai nostri telespettatori lavorare in Alpi. Lavorare in Alpi è scegliere di fare attività esterna all'ospedale oltre che lavorare in ospedale, è una possibilità contrattuale che i medici, giustamente chi ha lo studio privato quindi si dà uno straordinario ai medici che già lavorano all'interno della struttura. Sono tante sfaccettature, quella che ho detto io è una sfaccettatura, fare l'attività libero professionale è un conto, quindi il medico che sceglie anche di avere lo studio privato è lavorare per conto dell'ASA. Altro è quello che dicevi tu, fare i turni aggiuntivi che è un altro discorso, è chiaro che se io ho un medico, ho la carenza in un reparto e i medici di quel dipartimento a cui appartiene quel reparto sono disponibili in altre strutture, vengono appunto in Alpi a fare l'attività aggiuntiva. E nell'ospedale di Agropoli ti risultano medici che fanno straordinari in Alpi? Che vengono a farlo sicuramente, perché la dotazione dei medici di Agropoli non è che sia così, non mi pare che ci siano tutta questa quantità di medici. Sempre perché i medici scarseggiano? No, non c'era la dotazione, perché ad Agropoli c'era solo il reparto di medicina e il reparto di punto di primo soccorso, c'erano due reparti, un reparto e mezzo, io lo dico come ospedale di Agropoli, è chiaro che nel momento in cui tu mi vai ad attrezzare il reparto Covid, il reparto Covid, oppure la radiologia, il laboratorio di analisi, è normale che devono arrivare altri medici e se non ci sono ad Agropoli arrivano da Vallo, è chiaro che vengono in attività straordinaria, se loro devono garantire il turno su Vallo e su Agropoli. Ma i concorsi sono stati fatti da quando ne parlavamo durante la pandemia e il lockdown? Anche di recente, come no? E hanno risposto? Guarda, tu hai nominato perfino il bilancio, sul bilancio è stata destinata una quota accessoria ulteriore per la specialistica ambulatoriale, per far arrivare i medici specialisti. Io dico sempre che il metodo più veloce per entrare nell'ente pubblico è fare la domanda come specialisti di ambulatoria, perché tu fai la domanda con la grado, entri nella graduatoria e nel giro di un paio d'anni... Si parte dal retro, diciamo. Si parte dal retro, è una possibilità, tant'è vero che gli specialisti dovrebbero essere utilizzati principalmente sul territorio, negli ambulatori, però adesso si utilizzano anche negli ospedali con questa carenza di persone. Quanti sono poi oggi diventati pure importanti? Perfetto, comunque è un'altra procedura, molto più celere e più veloce per riferire questi medici che a noi servono, per così dire. Quindi? E quindi, è stato dato un ulteriore impatto... Agevolazione economica, chiamiamola così. Per alcuni aspetti, ripeto, io ho lamentato un certo immobilismo nei nostri manager a sud di Salerno per evidenziare le difficoltà. Io questo ho lamentato e l'ho lamentato anche, ripeto, quando c'è stata la carenza dichiarata al pronto soccorso di Vallo. Per me c'è stato un immobilismo, non c'è stata una programmazione. Ma perché? Perché bisogna chiederle ai manager queste cose qua, ai direttori che ci gestiscono. Non bisogna pensare all'uovo oggi, ma bisogna pensare più lontano. Tu non puoi preoccuparti e fermarti all'emergenza Covid come se finisse tutto. Tu devi comunque pensare che siamo partiti nel 2019, che abbiamo un DEA con 22-23 specializzazioni, dove c'avevi tutta una serie di problematiche. Avevi i problemi degli infermieri e ti sono arrivati, i problemi degli ossi e ti sono arrivati, i problemi dei medici. E perché non ti sono arrivati? Perché ti sei fermato? Ho capito. Bisogna chiedere quindi al direttore sanitario De Vita le motivazioni di questo stop. Come mai siamo arrivati a questo estremo? Se ci risponde naturalmente. Durante la pandemia ho avuto tante difficoltà, tranne una volta che ci rispose, ma alla fine non ci rispose. Fu una non risposta. Noi per esempio anche di recente, la settimana scorsa, abbiamo mandato un'ultima nota alla direzione sanitaria dell'ospedale di Vallo perché da un'altra delibera che è uscita qualche mese di giugno, venivano richiamati i budget, adesso ripeto sempre col fatto del bilancio, venivano richiamati i budget dove in questa delibera la programmazione, il controllo di gestione del budget ogni anno affida naturalmente dei fondi anche per le attività straordinarie, quindi del comparto, in questo caso parliamo degli infermieri, degli amministrativi, affida dei fondi per le attività del lavoro straordinario e per le indennità. naturalmente andando a guardare i conti così a volo per così dire, nella delibera già si diceva che venivano in parte giustificati i presidi che avevano sfondato il 2020 però questo e che però si raccomandava di recuperare questo sforamento anche in virtù del fatto che adesso il personale era arrivato, quindi ammettendo che erano arrivati gli infermieri che gli os, noi abbiamo fatto una lettera chiedendo i dati al direttore sanitario proprio per capire, anche perché da un controllo volante, dopo la lettera abbiamo fatto subito un controllo, sono state pagate le indennità a settembre relative al mese di luglio perché noi viaggiamo con due mesi da arretrato, abbiamo trovato queste determine di liquidazione per un importo di 360 mila euro totale, facendo un rapido calcolo, se hai pagato le indennità di luglio per 360 mila euro, diciamo fermiamoci a 300 mila e stiamo parlando di luglio settimo mese, 3 per 6 è 18 e 300 sono 2 milioni e 100 che l'ospedale di Vallo ha speso, Vallo Agropoli, il budget stanziato è 1 milione e 6, a parte tutto che già siamo fuori di 400 mila euro, ma la domanda sorge spontanea, è per andare avanti? perché ricordiamo che quello era riferito a luglio, fino a luglio, noi arriviamo pure a dicembre, uno qualsiasi direbbe provocatamente chiudiamo gli ospedali se non paghiamo le indennità accessorie, però bisogna guardarlo da varie sfaccettature, noi parliamo anche di una cattiva distribuzione del personale che è arrivato, perché il personale è arrivato, l'ha detto la delibera, noi abbiamo deciso di rifare la delibera, cattiva distribuzione significa che qualcuno magari lavora poco, in alcuni reparti, ci potrebbero essere anche delle posizioni di comodo dove nell'ordinario sei a riposo perché poi ti vai a fare lo straordinario, noi questo lamentiamo, lamentiamo una cattiva distribuzione del personale, ripeto aspettiamo i dati, ma la politica che cosa può fare Roberto? Ecco per esempio, nel caso del sindaco di Agropoli per spingere affinché si possa fare di più, come si chiama la conferenza dei sindaci, noi facciamo parte del distretto 70 se non sbaglio, 70 e Vallo Agropoli, è chiaro che la conferenza dei sindaci tutti insieme si portano avanti con un problema del genere, per la sanità del territorio, quindi i sindaci sono i primi da presentare. Ma non discutono mai però, nonostante questa emergenza che abbiamo avuto che ci ha assolutamente chiusi in casa tutti, io non ho assolutamente ricevuto nessuna informazione, né tantomeno ho letto articoli su eventuali conferenze che hanno fatto. Adesso mi fai riflettere, io te la butto lì. Ma questo perdonami è un problema serio, scusami, i sindaci devono riunirsi e parlare della problematica. Ma non solo riunirsi, il problema è anche un altro, te la butto lì, qualche mese fa parlammo, come dire, provocatoriamente ci fu un collega sindacalista che nel momento di euforia fece la battuta che se cercavi un sindaco dovevi andare all'ospedale, se cercavi un medico, non soviva dove andare, lo ripeto, è una citazione. Sì, perché lo dobbiamo dire, molti sindaci sono anche medici e quindi… Però io vorrei vedere, adesso voi mi fate vedere questa raccolta film di 40 anni, io vorrei vedere quanti amministratori locali hanno firmato, perché voi avete fatto la provocazione della spigolatrice emulandola con un prodotto agropolese, per la stessa cosa, la foto provocatoria, nessuno ha risposto tranne… C'era qualche amministratore locale, voi ricordate… C'erano solo due consiglieri di opposizione. Voi ricordate che il sindaco del qualsiasi comune è la massima autorità sanitaria e non è che lo possono ricordare solo quando finite le elezioni, hanno utilizzato questo strumento per qualche voto in più, dove si candidano sindaci, medici, perdonate, medici, medici di base, tutti operatori della sanità, perché poi alla fine comunque la sanità nel territorio è la maggiore industria che esiste a livello locale. Però quando ci sono queste battaglie a favore dei cittadini, io non l'ho mai visto in prima linea… voi fate la battaglia su Agropoli, ma come dire, l'amministrazione da che parte sta? Sempre dalla parte del governatore De Luca, naturalmente il nostro sindaco è filo PD, quindi probabilmente la sua partecipazione avrebbe irritato qualcuno, quindi il problema è lì… Come pure gli altri sindaci… Perché non sono venuti, non hanno detto la loro su questa provocazione? Queste domande le dovete fare alla politica appunto, perché poi alla fine io come ho esordito per Agropoli bisogna andare in Regione Campania e ridiscutere il piano ospedaliero. Per andare in Regione Campania ci vanno i politici, allora se c'è un interesse territoriale, politico che voglia ridistribuire, riorganizzare o abbia la possibilità di valutare le ipotesi di riorganizzazione di tutta la rete ospedaliera in Regione Campania, allora si può fare, si fa una cosa del genere, viceversa probabilmente anche questo tentativo potrebbe avere un non esito se non c'è una volontà politica da questo punto di vista, è chiaro perché è come quando vi dico che voi volete parlare dell'ospedale di Agropoli, io vi dico sempre non andammo a parlare dell'ospedale di Agropoli perché quello è un DEA Agropoli-Vallo, il trattino, ricordatevi... È un'ala, Agropoli è un'ala di Vallo. No, io provocatoriamente dico sempre Agropoli tanto è aperto perché c'è Stavallo, perché sennò quando l'avevano chiuso, l'avevano chiuso definitivamente, hanno riaperto un qualcosa per dare, come disse qualcuno in una riunione, mi disse tu già hai avuto, già hai avuto, adesso va, hai avuto il Covid, adesso basta, sono tutti richiami che vogliamo dire. Però l'ex sindaco Antonio Aloia di Vallo della Lucania mi sembra che in un'intervista a Raffaella Giaccio, la nostra direttrice, rispose che in quella indicazione il governatore De Luca non si riferisse all'ospedale ma ad altre cose. Ma ha sbagliato il tempo, mi meraviglio perché De Luca è molto attento a queste cose, quindi non penso che abbia sbagliato. L'ha sbagliato però Tony Aloia probabilmente, oppure avrà capito male. Noi capiamo, ognuno capisce quello che... Ma al di là di tutto magari poteva rispondere qualsiasi cosa, tanto oggi non è più sindaco di Vallo della Lucania, quindi probabilmente... Dottor Aloia comunque lavora anche lui in ospedale, è un cardiologico. Sì, assolutamente. De Luca, il governatore è venuto da noi per l'inaugurazione dell'emodinamica, il nuovo reparto, e quindi anzi io più riflessioni avevo fatto dicendo che a De Luca si poteva rinfacciare solo una cosa, che lui non avesse mai messo piede nell'ospedale di Vallo della Lucania, ed è stata la prima volta, anche precedentemente. Non lo sapevo questo. Finalmente quindi ha calpestato il pavimento del San Luca. Forse ha dovuto riconoscere dalle elezioni regionali che c'era stato un apporto. Stai parlando di Valiante che ha ricevuto tutti quei voti, no? Può dare, ma questo non penso sia stata quella l'indicazione, perché poi purtroppo l'onorevole non ce l'ha fatta comunque. Sì, infatti. Però probabilmente si era impegnato quando è venuto a Vallo a fare il... Tu parli su un discorso generale di numeri sul... Generale di numeri. Ok, capito. Aveva preso impegno, forse proprio con la sindaco Valoia, che sarebbe tornato per l'inaugurazione dell'emodinamica, ed è tornato ed è stata la prima volta che io riflettevo, ripeto, il governatore era venuto all'ospedale di Vallo solo in via privata a trovare quell'operaio che si era fatto male quando c'era il ponte interrotto a Prignano, che c'erano dei lavori, e in quella volta il governatore in forma privata era venuto all'ospedale di Vallo. Ma ufficialmente nel Cilento era venuto... Da Colbellis. Da Colbellis. Era venuto materialmente e poi ad Agropoli un paio di volte, però a Vallo della Lucania non aveva mai messo piede. Perché la Colbellis mi sembra che è una delle cliniche riconosciute, insomma, a livello regionale... Certo, era venuto per un'inaugurazione, giustamente. Se acquistano, se un privato acquista un macchinario in convenzione, che poi lo utilizzerà in convenzione, comunque sono delle prestazioni che vengono rese. Onore al merito di chi investe rispetto a quello che ci siamo detti prima, chi è lungimirante e chi resta un po' fermo al palo. Senti, e per chiudere una battuta su Antonio Sansone, sindaco, neo sindaco di Vallo, a cui vanno i miei, i tuoi auguri sicuramente. Lui, aggiornami sulla sua situazione attuale, è ancora medico, è esercitato nell'ospedale di Vallo. Non ricordo bene, quindi aggiorna la mia memoria. Io sono di Salerno, non ricordo i trascorsi del... Perché tu da poco hai preso servizio a San Luca. Da dieci anni. Il dottore Sansone ha fatto il sindaco anche precedentemente. Precedentemente, quindi non sei aggiornato. Io non so la storia. È chiaro che ho seguito la campagna elettorale, come dice qualcuno, perché noi, pur essendo residenti in un comune limitrofo, però usufruiamo dei servizi di Vallo della Lucania. Trascorrete comunque più tempo a Vallo della Lucania che nella vostra residenza. Perché, come disse l'ex sindaco Aloia, Vallo della Lucania comunque fornisce servizi a 20.000 persone. È il centro più grosso del Cilento, lo chiamano la capitale. Quello che si vuol dire è chiaro che Vallo della Lucania ha le scuole. Il tribunale. I miei figli vanno a scuola a Vallo, io lavoro a Vallo, quindi è chiaro. C'è l'ospedale. Però vivi? No, vabbè, io abito a Novivelia. Però sei di Salerno. Adesso sono di Salerno, quindi diventa tutto complesso questa cosa. Detto questo, è chiaro che la nuova amministrazione noi vediamo di buon occhio perché ci sarà questo cambiamento, ci aspettiamo un cambiamento e naturalmente aspettiamo che finalmente ci sia una voce autorevole che si opponga a questo, diciamo, non voglio usare parole forti come declino, però a questo momento di distrazione di massa che sta vivendo l'ospedale di Vallo, che un attimino fermo al palo. Voi piangete Agropoli con le quattro frecce per ovvi motivi, ma pure Vallo della Lucania in questo momento non può ridere, principalmente, ripeto, perché c'è questa carenza forte di medici. E quindi è in affanno, lo confermi? Sicuramente. Ancora oggi non mi pare che sia successo qualcosa o siano arrivati questi medici a flotte che abbiano compensato i vari reparti. Ripeto, noi abbiamo difficoltà in più discipline oltre al pronto soccorso, sperando che sul pronto soccorso agiscano presso questi giovani, però aspettiamo con ansia l'evolversi di queste procedure che l'Asel Salerno ha pubblicato, sperando che vengano anche da noi medici in varie altre discipline dove effettivamente siamo in difficoltà e dove a volte la difficoltà si trasforma in rischio per gli operatori. perché se un medico lo mettiamo a fare due o tre turni di fila e non dorme, non ha il giusto riposo, si rischia poi l'assistenza. Io sto facendo un attimo una breve riflessione, un breve anche paragone se vogliamo, ovvero dico questo, la pandemia ha reso a tutti quanti noi cittadini, ma non solo, soprattutto alla sanità italiana, delle difficoltà enormi, perché ti ricorderai benissimo che c'era l'emergenza sulla occlusione proprio delle strutture ospedaliere, quindi si cercava di andare al riparo con posti di letto nuovi, installandoli su in palestra e quant'altro. Detto questo, cosa ci ha insegnato la pandemia? Di rinforzare la sanità. Cosa ci insegna la politica? Che essendoci adesso i PNRR, i famosi fondi che dovrebbero cambiare la nostra identità e anche realtà, nella sanità, secondo te, si investirà oppure faremo la stessa fine di sempre, ovvero arrivano i soldi, però non si fa nulla e quindi non si può migliorare la nostra condizione sanitaria. Col PNRR bisogna rendicontare, quindi i soldi si arrivano poi, se non rendi conti nel giusto modo, devono essere restituiti, questo è sicuro. Però con questo possiamo farcela, secondo te, ci sarà la possibilità di potenziare Vallo, di potenziare Agropoli? Ci sono tutte le premisse per fare anche degli ammodernamenti tecnologici importanti, delle attrezzature all'avanguardia, tant'è vero, ripeto, io quando parlo con qualche medico… Ma abbiamo la capacità e la possibilità di fare tutto questo? Ci sono le… Ci sono troppe domande però, la capacità non la giudico io, la capacità, è chiaro che io ho lo strumento, io nel mio piccolo sono incaricato al settore acquisti dell'ospedale di Vallo della Lucania, è chiaro che se chiedono determinate cose e c'è l'indicazione per acquistare determinate cose noi procediamo. Anzi, bisogna dare un'accelerata a questi processi per cercare di attrezzare quanto più è possibile, non perdere il treno, ripeto, lo ha detto anche il governatore De Luca, sempre a Vallo della Lucania, ci sono i fondi per ammodernarsi tecnologicamente, per prendere attrezzature all'avanguardia. Sarà solo… se è un compito nostro, è un compito dei nuovi direttori dei reparti, se ce ne sono, qualcuno è stato nominato di recente, che devono azzardare con delle richieste sempre più all'avanguardia, aggiornarsi e chiedere. Le possibilità ci sono? Se poi perdiamo il treno perché non riusciamo a cogliere l'attimo, è chiaro che in questo momento, ripeto, se non abbiamo la dirigenza in numero sufficiente per poter organizzare l'assistenza minima, diventa anche difficile programmare un discorso di spesa futura, perché ripeto, se abbiamo reparti con due medici, per reggere un turno ce ne vogliono perlomeno sette volte in un reparto, noi ne abbiamo due, i due medici sono impegnati giustamente nell'assistenza quotidiana, a volte non hanno neanche il tempo per programmare a casa loro, come vogliono programmare un discorso più a lungo raggio. La programmazione si fa, c'è, noi abbiamo Salerno come sede, ci sono tanti dirigenti apicali, si può programmare di tutto, ci vuole una volontà unita di tutti quanti, vedendo principalmente l'ambito sud, ho delle preoccupazioni per lo sviluppo, perché vedo, ripeto, io non voglio usare dei termini negativi, perché poi dici, tu sei l'uccello di Malagurio, porta male, però girando per le strutture a sud di Salerno, vedo molta apatia, molto disaffezionamento, quasi persone che si sono ormai fossilizzate a dire, vabbè è andato sempre così, va così, non vedo margini di crescita, e questo purtroppo invece è una cosa proprio… Questo però, scusa, mi stimola poi i privati. Ma il privato, ma beh venga, se il privato riesce a garantire il servizio sanitario, ripeto, in convenzione, ben venga anche questo, noi non è che siamo in lotta o in guerra, è chiaro, è sbagliato al contrario, se io me la prendo col privato perché sa fare meglio di me, ma se il pubblico ha i manager, perché poi io devo parlare per favore, noi siamo tutti degli esecutori, se i manager non riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati, allora è colpa di chi ha scelto i manager, che ha scelto le persone non competenti, non all'altezza del compito che gli è stato affidato. Alla fine ci ritroviamo, facciamo il classico esempio della Fiat, no? Cioè non penso che quando c'era Marchion, la si va per raggiungimento di obiettivi settimana per settimana, giorno per giorno, noi abbiamo degli obiettivi ben stabiliti, è chiaro che nel privato c'è un controllo serrato su questi obiettivi. mentre nel pubblico ci sono le amicizie, ecco, diciamo, lo dico io e chiudo ringraziando Roberto Ronca del sindacato autonomo FSI USAE, finalmente nel dietro le quinte, insomma abbiamo avuto un po' di discussione sul sindacato, non scherzo, e chiudiamo con agevolare maggiormente la vostra volontà, anzi spingere la vostra volontà a firmare la petizione, riaprire il pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli, siamo a 40 mila firme, se raggiungiamo 50 mila firme siamo una delle petizioni più note, insomma, su questo importante sito, diciamo, di denuncia e nello stesso tempo ci auguriamo che prossimamente magari anche il Ministro della Sanità, perché no, se ne accorge, perché questo serve appunto a tirare forte l'attenzione sull'obiettivo e sul nostro problema. Grazie Roberto. Grazie a voi e mi auguro che ci siano degli sviluppi positivi per questo Noi continueremo a parlare di ospedali di Agropoli, non molliamo e quindi seguiteci sempre, sempre su Cilento Cialo